Se non mi sento, non esistono, eh? Niente, radar non risponde, eh? Harrow, stai scherzando? Non sono due o tre soldati, ma almeno una dozzina e gli infetti! Vuoi che ti massacrino? La paura non si mette mai alla porta, ma è lì. Ho un feeders in grande freccia! 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 Ho un feeders in grande freccia!